E' una Virtus che adesso deve svoltare in trasferta, giocando anche contro i numeri. La sega freddo di Alessandro Ramagli, che sta preparando la sfida di Santo Stefano alla palestra Porelli, ha bisogno di ritrovare quel colpo fuori casa centrato una sola volta in questa prima parte di stagione a Pesaro. Che non sia una missione facile, lo dice anche lo scoro posto in casa di Varese, dove gli ospitanti sono stati più vincenti, quattro volte che perdenti, due occasioni al cospetto però di corazzate come Venezia e Sassari. In Lombardia sono cadute abbastanza fragorosamente Cantù e Trento, Pistoia e Capodorlando e anche fuori comunque la truppa di Attilio Caia, tutta difesa nei momenti migliori, ha venduto cara la pelle. Insomma, molto meno malleabile come avversario di quanto non dica la classifica. Per la Virtus però è uno spareggio da aggiudicarsi per evitare il rischio concreto di restare fuori dalle finalette di Coppa Italia, primo obiettivo stagionale da non fallire se si vuole continuare la crescita. Varese, due punti più sotto, comunque viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, il suo obiettivo è salvarsi prima possibile e perciò la Sega Fredo ha bisogno di mostrare le sue qualità, attaccandoli altrui certezze. La Fayette si è fermato per una botta ma dovrebbe essere a disposizione senza troppi problemi. Semmai, Ramagli deve incoraggiare i segnali importanti arrivati contro Torino, proseguendo verso l'uscita definitiva della crisi. Tatticamente è una Virtus che sta cercando di cambiare pelle, in realtà tornando sugli equilibri pensati a inizio stagione. A Varese, oltre alla compattezza difensiva, determinante nel successo contro i piemontesi, sarà fondamentale ritrovare fluidità offensiva, quella che Stefano Gentile ha garantito più dello stesso da Fayette o che il fratello Alessandro sta favorendo col suo processo di trasformazione in uomo squadra.